L'errore di Terracciano Non è una conclusione meravigliosa la sua ma finisce in porta e già questa è una novità per come era andata la partita per le tante troppe occasioni che avevano avuto Milan e Fiorentina ma in particolare il Milan nel secondo tempo Alla fine la sblocca Leao che raggiunge la doppia cifra per la prima volta in carriera Ovviamente a livello di Serie A team, questa la palla recuperata sul rinvio sbagliato di Terracciano Punta Milenkovic, va sul destro e calcia e lascia proprio immobile sulla sua posizione Terracciano Il destro vincente di Rafael Leao